Ha chiesto una condanna a quattro anni per Francesco Rapisarda Giarrese, più noto come Ciccio Ninfa, e tre anni e otto mesi per Orazio Mangano di Mascali, il pubblico ministero Alessandra Tasciotti, al termine della requisitoria nell'ambito del processo corrito abbreviato scaturito dall'operazione denominata Caterpillar, con cui gli agenti del commissariato di polizia di Acireale hanno sgominato lo scorso maggio la banda dell'escavatore dedita principalmente ai furti e danni di istituti di credito, supermercati e distributori di carburante. Degli 11 indagati, solo uno e il terzo ionico coinvolto nell'inchiesta Giuseppe Greco di Riposto ha scelto il rito ordinario. Le richieste più pesanti, sei anni e tre mesi, sono state per Giovanni Costanzo, Mario Cantarella e Rosario Fichera, chiesti sei anni per Fabio Longo, cinque anni e sei mesi per Sebastiano Leonardo e Camillo Costanzo e quattro anni, infine, per Gianluca Alfio Cosentino e Sebastiano Granata. Più lievi, quindi, le richieste di pena per i due ionici, accusati solo di complicità nel furto commesso ai danni della stazione di servizio SP all'ingresso dello svincolo autostradale di Giarre. A novembre inizieranno le discussioni della difesa.